Diciannovesimo turno del campionato di eccellenza 2012-2013 alla caserma Gersomini, le fiamme oro di Pasquale Presutti alla ricerca del settimo posto come conferma di un'annata spettacolare per i poliziotti romani contro la VFMCZ Regbi Rovigo Delta, volenterosa nell'inserirsi nei primi quattro posti che danno il lascio a passare le semifinali play-off di questa stagione. La squadra allenata da Pasquale Presutti in tenuta bianca, schiera Mariani Estremo, Valcastelli e Andreucci Ale, Sapupo Massaro in centri, Cana Benetti in mediana, Balsemina, Vedrani e Zitelli in terza linea, Cazzola sotto le seconde linee, Duca, Cerqua e Cocifera in prima linea. La squadra di Polaru, schiera Stefan Bassone Estremo, Zorzi e Andrea Bacchetti le ali, Menon Van Nicherchi due centri, Duca e Guido Calabrese in mediana, Di Amarchi, Folle ed Edoardo Lubia in terza linea, Tumiati Jones le seconde, Lombardi, Quaglio, Maoni la prima linea, Rosso-Blu. Una partita sicuramente molto importante, dai temi diversi, ma se vogliamo parlare anche della sfida fra gli allenatori, due ex colleghi in quel del Petrarco, una sfida infinita fra Pasquale Presutti, il grande vecchio maestro del rugby italiano, contro Polaru delle Fiamme Oro. Quando siamo al diciottesimo del primo tempo, per smuovere lo score e portare i primi tre punti alla squadra allenata Pasquale Presutti. Quanto bizzarra l'inquadratura del cameraman e delle polizie di Stato, arrivano per i primi tre punti delle Fiamme Oro, con il calcio piazzato di Nicola Benetti al diciottesimo del primo tempo. Quaglio va a formare la racca, Calabrese, per Stefan Basson, proviamo ad aprire, Giovanni Iker, Giovanni Iker prova da solo, riesce a fare un piccolo break, guadagniamo terreno, bravo Gio, Guido Calabrese, per Stefan Basson, prova un'azione personale, c'è un vantaggio intanto del Rovigo. Ancora continuiamo, Calabrese, Calabrese Duca, Duca aperto per Folla, forza Sebastiano, il Friulano, Maidomo, taciturno, moto concreto. Ancora Maranda solo, imbeccato da Calabrese, siamo dentro i 22, ancora Guido, per Stefan Basson, apre tutto, purtroppo non è perfetto il passaggio per Bacchetti. Quindi, pallone che ritorna nelle mani delle Fiamme Oro. C'era un vantaggio però, sanzionato da Damasco, per cui, calcio di punizione per Rovigo, per un fuorigioco della linea difensiva delle Fiamme Oro. Ecco, immaginiamo che il palo sia rappresentato dal palo della tribuna in questo momento, anche se è più, diciamo, abbondante rispetto a quello bianco o nero. A noi interessano le bandierine, le bandierine sono alzate. Benetti non sbaglia. Nicola Benetti non sbaglia, 9 Fiamme Oro, 3 Rovigo. Parte Stefan Basson, la distanza siderale. Il calcio è ottimo. Prende la traversa Stefan Basson. Ragazzi, questa è anche sfortuna. Un calcio della Genna che prende il palo, la traversa adesso non l'ho ben visto. E' anche sfortuna, perché bisogna dire le cose col proprio nome, definirle in una maniera ottimale. E' talmente lontano che la pressione di Rovigo non poteva essere nemmeno così presente. Comunque, ripartiamo. Intanto, Riz Lenarduzzi. In campo. Al posto di Davide Duca. Forza Rovigo. Picking Go ha assistito. Non riusciamo ad entrare nei 22. Però pallone ancora per Michele Zanirato. Per Riz Lenarduzzi. Autore della seconda meta contro il Viadana. Ben controllato dalla difesa delle Fiamme Oro. C'è un vantaggio per Rovigo. E Michele Zanirato non si fa sfuggire all'occasione. Intanto, anche in campo. Che stavolta non sbaglia. 9 a 6, meno 3 a Rovigo. Alla causa della polizia di Stato. La corsa verso i play-off si farebbe sempre più dura per Rovigo. E così è. Benetti non sbaglia. Benetti ha sul piede destro l'esclusione del play-off 2012-2013 di Rovigo. Parte Nicola Benetti. Ed infila i pali. A 79esimo. Da Vedrani. Coralista Lenarduzzi, Andrea Bacchetti. Francesco Menon. Passaggio non ottimale per Stefan Basson. Il pallone esce.